E' stato Müller il primo ad andare a rete su punizione battuta a sorpresa con la palla guardata da tutti. Poco dopo ancora il tedesco è molto lesto a girare a rete un passaggio di Baresi contro il quale nulla può fare Sorrentino. Ancora Müller serve bene Serena che in piena area viene atterrato dal portiere del Catania. E' il rigore. Altobelli lo batte e segna iniziando così la sua goleada. Nella ripresa al quinto viene espulso Giovannelli e il Catania resta in dieci. Intanto Altobelli segna ancora su cross dal fondo di Mariani da poco entrato. Spillo sembra inarrestabile e si dà molto da fare. Eccolo girare a rete di piede. Sorrentino si tuffa ma non riesce a trattenere. E' il 5 a 0 e non è finita. Poco prima della fine Müller, sì proprio lui, serve Altobelli che al secondo tentativo riesce per la sesta volta a superare Sorrentino. L'abbraccio finale tra Altobelli e il tedesco sembra metter fine a recenti polemiche tra i due.